Il governo che attende il fenomeno di visita iniziale di Venezolano in forma strutturale. E sicuramente anche il mestre Brinda accionano in questa quadra con un acercamento civico. Civico però firma per non avere violazione di nostre linee neppoco. Per tutti via un comissione multidisciplinario di Topa, per aiutare il governo a comprender le tendenze di questo fenomeno. Diferenti ministri hanno avuto la signatura per fare un manegro più scherpe. Il governo del governo del Topa è un comissione che ha fatto un analisi della situazione e le conseguenze di visita iniziale di Venezolano. Il governo del governo del Topa è un comissione che ha fatto un analisi della situazione e delle conseguenze di visita iniziale di Venezolano. e l'aumento di certe immigrazione che ha fatto in Aruba. Nostra ammigrazione che ha fatto un aumento grande di certe immigrazione in Aruba nell'ultimo tempo. E la nostra ammigrazione è anche l'Aribacaia, la nostra ammigrazione è anche il nostro barrio. E è importante che il Departamento di Inmigrazione, e il Departamento di Inmigrazione, il Departamento di Guarnas Costa, il Departamento di Dimas, il Departamento di Labor, il Departamento di Turismo, e anche la polizia che ha fatto un analisi della situazione e che ha fatto un pronostico di sviluppo per il periodo iniziale. Dato che serve il governo per implementare alcune azioni, e questa informazione serve anche per complementare alcune azioni che ha fatto un attimo. per assicurare che l'Aribaca di Inmigrazione di Aruba sta a rispettare, che ci può garantire tranquillità e paz, e che la nostra industria turistica può seguire, operare, apesar che c'è un fenomeno, che è qualcosa di nuovo, per noi può attendere anche l'inquadra, l'immagine di l'ospitalità del nostro paese, però sì, che regalano più clare, più stricte anche, che l'Aribaca di Inmigrazione e l'Aribaca di Inmigrazione di Aruba, e il nostro esforzo è un esforzo nazionale, che abbiamo fatto con il ministro e il ministro, il ministro del ministro, il ministro dell'Aribaca di Inmigrazione di una forma più corretta, più stringente, ma più efficace anche l'inquadra, che abbiamo fatto con il nostro ministro e l'Aribaca di Inmigrazione di Inmigrazione di Inmigrazione, e sempre il nostro popolo ha detto che in una forma ospitalaria. L'importante etapa come si realizza è trabò fuori il punto di vista di entrata di visitanti. Poi sa che, mestiere di recurso addizionale. Come con Aruba, dove è poco paese nel Carribe, che ha un sistema di Radex, che si può processare automaticamente, con il porto e dati di turinico, che arriva a Aruba, un'altra bai, eccetera, che non ci hanno alcuni instrumenti per lavorare, e poi ci hanno aggiungo uno addizionale, che prima che ci hanno bisogno di avere un'altra bianca, e ci hanno bisogno di avere un'altra bianca, e ci hanno bisogno di avere un po' più spazio, e ci hanno bisogno di avere un'altra bianca, per controllare il flore di persone che sono in Aruba. Nostra chiede è la realizzazione di sviluppo internazionale, di sviluppo di Aruba, e ci hanno bisogno di avere un candidato di hobby grande, di persone che sono coinvolte, e ci hanno bisogno di avere un reto per noi, per uno importante e grande, ma nel stesso momento anche per i nostri cittadini. Qui, un'appellazione del cittadino, che si è visitante in Aruba, è un negozio per il servizio. Proprio spazio per la gente chiede, per fare un'altra bianca, e nel senso di dire, non so se un'appellazione arriva alla nostra comunità, para sempre tenere in mente che è legata di istatunya, è legata di trasmissione in Aruba, è legata di admissione di Aruba. Il governo naturalmente ha su ministri, per attender fianco al controle, per cui noi siamo d'un umano, noi siamo conscienti che ci hanno chieduto, siamo stiamo nel paese, siamo chiedendo un paese sicuro, per non facilitare un certo desarrollo che comporta una violazione di lei o che comporta un peligro per la sicurezza di nostra gente. Nel terreno di desarrollo, non obstante, il suo facetto è un poco comune e incòmode per unificare una certa opportunità. Tiene un momento in acce, naturalmente, lo che non si mira nel desarrollo. Tiene un certo sentimento di inquietud, lo che non si mira nel nostro barri, lo che non si mira. Tomando il luogo, nel spazio pubblico, per una altra banda, se non si può contenere il tema che non si sta mirando e ponendo in un contesto lo che la società europea, o che non si può contenere il nostro barri e il nostro barri e il nostro barri di antagonismo, di polarizzazione e di agitazione contro qualche nazionalità del nostro paese. Giovanni Müller, Notizia Venoci. E qui è l'ultimo commentario, anche manantario, che ha segnato la irresponsabilità che il tempo attendeva in forma cautelosa e che è il tema senza offendere a nessun cittadano di nessuna nazione. Notizia Venoci.